Taranto, piazza San Lorenzo, proprio alle spalle di Viale Magna Grecia e ovviamente nelle adiacenze della omonima parrocchia di San Lorenzo, un bel piazzale, vedete, hanno appunto, hanno provveduto a tagliare, a ripulire le siepi, ma le cose si fanno a metà, si fanno a metà perché poi l'amio, occhi di dovere, appunto non ha provveduto a rimuovere tutta quella sporcizia, quei rifiuti che si appunto annidavano sotto le siepi, un lavoro incompleto fatto a metà e allora vedete, le siepi belle tagliate, curate e la schifezza al di sotto, alla base, insomma qui si fanno le cose a mezzo servizio, non si coordinano i soggetti, questo è il vero problema. Io istituirò un assessorato proprio alla vivibilità urbana, alla qualità della vita, questa è invivibilità urbana e qui si dovranno coordinare amministrazione comunale, assessorati, uffici tecnici, amio, perché non è possibile che si faccia un lavoro e poi rimanga la porcheria a terra. Ma mi pongo una domanda, come diceva Checco Zalone, ma questi sono del mestiere?